Io condanno e condannerò finché campo ogni genere di violenza, quindi ogni tipo di assalto alle forze dell'ordine, poi ho fatto il ministro dell'interno, chi attacca un poliziotto, un carabiniere, chi assalta o danneggia la sede di un sindacato, di un'associazione, di un pronto soccorso, roba da matti, chi attacca un'ambulanza, un'auto della polizia, questi sono criminali, non sono manifestanti, chi usa la violenza vuol dire che ha idee che valgono poco, quindi condanna senza sé e senza ma di ogni genere di violenza e di estremismo, a Roma per le violenze di ieri sono stati arrestati alcuni estremisti di destra, a Milano per le stesse violenze sono stati arrestati alcuni estremisti di sinistra, quindi per me sono criminali, gli uni e gli altri, sono imbecilli, gli uni e gli altri, poi noi continuiamo a fare la nostra battaglia di libertà, leggo che qualcuno vuole sciogliere partiti per decreto legge, no, c'è una Costituzione, quindi se qualcuno ritiene, se qualche giudice a proposito di giustizia ritiene che qualcuno abbia ricostituito il partito fascista, cosa che è impedita dalla Costituzione, si intervenga e si sciolga, però non può essere un parlamentare che decide di sciogliere questo o quel partito, attenzione perché il fascismo non è morto, ci sono nuovi fascisti, ovviamente a chi faceva riferimento? A Matteo Salvini, ci sono nuovi fascisti che hanno chiuso i porti e che, ha detto il furbo, volevano buttare gli immigrati amare, il furbo ignora, il furbo è ignorante perché durante l'anno del Ministero di Matteo Salvini, secondo lui fascista, ma io sono antifascista, anticomunista, antistremista. Sabato e domenica prossima, gazebo in tutta Italia, ho visto che nonostante ci siano i ballottaggi a Torino, a Roma, a Savona, a Trieste, a Caserta, in tante altre città, la sinistra organizza delle manifestazioni il sabato, ma come? Prima del voto non bisognerebbe stare in silenzio. Ecco, noi saremo qui gazebo.